Un ricordo, è la mia vita, ho iniziato con lei a lavorare la prima volta, avevo 11 anni, quindi lei diceva tu sei mio fratello ed è vero perché adesso veramente ho perso una sorella. Che ricordo porterai un episodio in particolare? Noi abbiamo vissuto per anni all'estero insieme, l'episodio è che se io avevo bisogno di qualcosa chiamavo lei e lei se aveva bisogno nel mio piccolo chiamava me e potevo, questo sicuro, avevo veramente lì, era una famiglia unita. Grazie a voi.